In ascolto del tuo respiro, entra in profondo contatto con te stesso. Inspira ed espira profondamente. Visualizza tre luci, tre fiammelle, tre fuochi. Uno al centro della fronte, uno al centro del petto, uno al centro del ventre. Sono tre fuochi che purificano ogni pensiero, ogni sentimento, ogni emozione, non allineati alle alte vibrazioni. Durante questa purificazione lasci andare ogni pensiero, ogni sentimento, ogni emozione del passato che oggi non ti appartiene più. Nella consapevolezza della perfezione del tutto, della perfezione di tutto ciò che si manifesta e accade, lasci andare. Ogni momento è perfetto, ogni momento è un dono per l'esistenza. Ogni momento ci porta un insegnamento importante per la nostra crescita, per la nostra evoluzione. Imparando ad accettare, ad accogliere le esperienze vissute, possiamo lasciare andare. Il fuoco purifica, il fuoco brucia. Grazie per questa purificazione. Grazie per questo dono. Grazie per questa comprensione. Grazie per questa liberazione. Grazie per questa liberazione.